De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Due sindaci, quello di Calitri Michele Di Maio e quello di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole e pochi altri amministratori. E' stata questa la risposta dell'Alta Irpinia alla visita del sottosegretario alle infrastrutture e dai trasporti Umberto del Basso De Caro alla fiera interregionale di Calitri. Alla faccia dell'unità e della condivisione di tutte le iniziative per provare a dare uno slancio concreto e definitivo al progetto pilota Alta Irpinia. E proprio di questo e di sviluppo delle aree interne ha parlato ai nostri microfoni il sottosegretario Umberto del Basso De Caro. A volte io vengo come sottosegretario a visitare questa importante fiera interregionale che è un punto di riferimento, mi pare, non effimero perché siamo alla 35esima edizione. Io penso che la scommessa sia questa. O riusciamo a valorizzare le nostre capacità, il nostro genere, i nostri inventivi, i nostri prodotti oppure difficilmente potremo avere un futuro. Dobbiamo organizzarci. L'area pilota Alta Irpinia sarà mai realtà? Intanto il Cipe non l'ha approvata, il primo dicembre del 2016. Non so se la circostanza è stata resa nota. Ciò non significa che la regione Campania non può finanziarla, come è stato detto, con un importo rilevante. Ma dalle cose che mi hanno riferito e che io ho letto da qualche parte, in sostanza quando vi è stata la visita del Presidente De Luca a Nusco, non molto tempo fa, credo un mesetto fa, in realtà le opere a cui ha fatto riferimento il Presidente sono quelle che sono previste appunto nel patto per la Campania. L'area pilota nasce per tre direttrici fondamentali in materia di trasporti, di sanità e di istruzione. Quindi dobbiamo metterci al lavoro per realizzare queste opere e soprattutto per concertarle allo Stato. Io dall'elenco delle cose leggo le stesse opere che sono ricomprese nel patto per la Campania. Non mi pare di averne ascoltate di diverse.